Buongiorno a tutti, oggi torniamo sull'argomento delle risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali, risorse finanziate nell'ambito del PNRR. Il bando è stato pubblicato gli ultimissimi giorni di dicembre e già sono state raccolte diverse domande. Ricordo che si tratta di un contributo pari a 100 milioni di euro e che verrà erogato secondo regole che qui ci sentiamo di ripetere. Il contributo mira a permettere tutte le farmacie, ricordiamolo, tutte le farmacie rurali sussidiate di dotarsi di mezzi e di attrezzature per poter gestire al meglio la dispersazione del farmaco e derogare determinate tipologie di servizi. Sottolino come questo sia un importante passo verso la crescita di ruolo della farmacia nel dare risposte ai bisogni del cittadino, proprio là dove c'è maggiore necessità e dove la farmacia è da rinforzare perché costituisce l'unico presidio presente sul territorio con tutte le sue fragilità. Invito quindi a partecipare tutte le farmacie in possesso dei requisiti. I punti principali sono, allora, intanto il bando resterà aperto fino al 30 giugno, però attenzione perché rimarrà aperto fino a che saranno disponibili fino all'esaurimento delle risorse. Il bando è accessibile sulla sezione bandi di gara del sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. Abbiamo pubblicato la circolare numero 707 che spiega in modo preciso come accedere al bando e spiega e riporta i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica che abbiamo dedicato per poter fare le domande. C'è un call center specifico che darà risposta a tutte le vostre domande. Questo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il contributo per ciascuna farmacia rurale sussidiata è pari a due terzi del costo totale dell'investimento e non può superare l'ammontare massimo di 44.260 euro. Allora, quali sono i dispositivi e le attrezzature che interessano questo bando? Si parla di tre macro aree. Allora, la prima macro area riguarda intanto la formazione sui farmaci innovativi, sui farmaci antitumorali e la riorganizzazione dell'area di dispensazione. Quindi si parla di acquisire per esempio macchine frigorifero, per esempio cassettiere, per esempio banco lineare, per esempio meccanismi di automazione del magazzino. La seconda macro area riguarda la partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, con anche qui formazione specialistica, rimborsi per dotazioni tecnologiche, logistiche, ad esempio i canoni di locazione di piattaforme per la gestione, per la presa in carico del paziente cronico. La terza macro area è dedicata all'erogazione di servizi di primo e secondo livello, anche qui si parte con una formazione specifica e poi il rimborso riguarda l'acquisizione o il noleggio di dispositivi di telemedicina, per esempio, oppure l'acquisto di analizzatori sangue e urine. Non solo, ma è previsto anche rimborsi per l'adeguamento di aree dedicate proprio all'erogazione di questi servizi, lettino piuttosto che poltrone, piuttosto che console, eccetera. Bene, comunque sul bando, nella scheda specifica, si troverà il dettaglio di questi dispositivi, quindi potranno essere scelti con precisione. L'Agenzia per la coesione territoriale risponderà la domanda entro 60 giorni, dopodiché darà l'ok e dopo l'ok, dopo nell'arco degli successivi 30 giorni, arriverà un bonifico alla farmacia per la quale è stata accolta la domanda, non prima di aver trasmesso alla farmacia una polizia fidei ussoria, copertura dell'intero importo finanziato, aver compilato un disciplinare di obblighi e aver presentato una certificazione del requisito, cioè del requisito di farmacia rurale sussidiata. Ovviamente l'Agenzia poi si occuperà di fare i controlli a posteriore. Pubblicheremo al presto delle domande, scusate, delle FAQ, come pure avviso che alcune domande sono state al momento bloccate perché Sogei sta intervenendo sulla piattaforma per sistemare alcuni parametri, quindi queste domande saranno presto sbloccate. Raccomando a tutti di usufruire di questa importante opportunità, ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro.